Tele Durruti, c'era una volta il mobile bar, questo è di Midollino, non c'era casa di un certo tenore che non lo mostrasse, non lo presentasse in un angolo della casa. I liquori, i brandi, la formica, l'orgoglio del padrone di casa, questo addirittura viene offerto a questa cifra, l'orgoglio del padrone di casa, in un film come Il Laureato la conversazione tra Mr. Robinson e il giovane Ben avviene proprio davanti a un mobile bar. Con delle bottiglie apposite, era ancora viva biancaneve che tuttavia non fa parte, bisogna per un attimo immaginarlo in un ideale, concreta casa degli anni che sappiamo. C'era una volta il mobile bar, sarebbe meraviglioso poterlo avere ancora adesso in una casa se solo lo spazio lo concedesse. C'era una volta il mobile bar, Tele Durruti.